Archiviata la bruciante sconfitta nel derby contro l'Agnone per il Termoli è ora di pensare al match di domani contro l'Ancona. La classifica è corta anche se i giallorossi restano a 38 punti e quarti in graduatoria perché scavalcati dalla maceratese che domenica scorsa ne ha approfittato vincendo in casa contro il Celano. Per domani invece i ragazzi di Giacomarro dovranno vedersela proprio con la squadra che condivide con loro il quarto posto. Un'Ancona che viene dal pareggio nel recupero settimanale contro il Celano e che quindi potrebbe pagare 90 minuti in più nelle gambe. Ma questo non deve e non può essere motivo di scuse per gli adriadici. Intanto per il match di domani la società ha indetto la giornata giallorossa. Con questa iniziativa la società si aspetta un grande risposta da parte dei tifosi per contribuire tutti insieme al rilancio della squadra verso i vertici del campionato cercando magari di puntare alla vittoria finale del torneo. Un grande pubblico quindi è chiamato in causa domani al Cannarsa contro l'Ancona per incitare al meglio la squadra per i tre punti ritenuti di vitale importanza. Per la gara non saranno pertanto validi gli abbonamenti di alcun settore ed i prezzi del biglietto d'ingresso saranno i seguenti. Di 10 euro per uomini e donne in tutti i settori dello stadio, tribuna compreso il settore Marco Guida e tribuna ospiti ed ingresso gratuito per i minori di anni 14 muniti di documento d'identità. Per quanto riguarda invece la formazione anti-Ancona, Giacomarro dovrà fare a meno di Imbimbo e Bartolini entrambi squalificati. Quindi tre pali Patania in difesa Viteritti Giuliano Maglione. Il centrocampo a 5 con Caravaglio Cianni torna Fusaro capace di dar copertura anche in difesa. Gli altri due di centrocampo sono Mandorino e D'Amico. In attacco Miani è l'esordio del classe 91 Stefano Spagna. A dirigere Termoli e Ancona il signor Pasquale Boggi di Salerno.